Un argomento delicato, quello delle fake news, le cosiddette bufale, con una declinazione in un ambito addirittura delicatissimo, quello medico, se ne è discusso nel recente convegno organizzato dal Neuromed nel contesto della Notte Europea dei Ricercatori. La manifestazione, sostenuta dall'Unione Europea che ha designato il Neuromed come hub italiano per ulteriori eventi a carattere scientifico divulgativo, si è tenuta a caserta nell'incantevole location del complesso borbonico del Belvedere di San Leucio. Le fake news in medicina, una patologia dell'informazione, il titolo del convegno che ha dato il via agli interventi e agli approfondimenti. La maggior parte delle fake news si basano sull'ignoranza, ha affermato Giovanni De Gaetano, presidente dell'Istituto di ricerca Neuromed. Un fenomeno preoccupante che nel campo della medicina e della salute in generale sta avendo effetti diretti, immediati e negativi, ha sottolineato il presidente della fondazione Neuromed, Mario Pietracupa. La risposta? Lo schierarsi con la scienza. La verità scientifica è l'unica che conta, questa la riflessione del direttore scientifico dell'IRCS, Luigi Frati. È bene che l'informazione che noi diamo sia un'informazione corretta e che i cittadini sappiano per davvero cosa si fa avanti, avviene in avanti con la ricerca e quali sono le possibili applicazioni cliniche. Tante volte si danno speranze false con grande danno poi per i cittadini che credono a questi annunci che poi sono seguiti da nulla e talvolta sono annunci a cui seguono però anche fatti gravi. C'è il caso di un famoso sulle vaccinazioni del morbillo dove un medico inglese diceva che provocava l'autismo quando lui in realtà era una ragazza autistica che lui ha vaccinato poi dando da bere che invece era la rovescia. È stato radiato dall'ordine dei medici inglesi e così poi il medico Hammer in Germania che era convinto che il cancro avesse origine psicologica, una ragazza di 18 anni con una leucemia assolutamente curabile, c'è morta. Allora l'informazione è molto importante, bisogna dare informazione positiva e magari anche dare informazione negativa, guardate questa cura che hanno detto che è efficace non lo è, quando ciò è dimostrato. Su questo noi di Neuromed siamo assolutamente proscienza nel senso che la vera scienza, la vera ricerca è quella che guida la nostra attività e l'attività dei nostri clinici e questa è una garanzia per il cittadino che sa che quando viene in strutture di questo tipo come in tutte quelle della rete degli IRCS in realtà è la verità scientifica l'unica che conta ed è l'unica che può dare un vantaggio vero al cittadino. Grazie. Grazie.